Mi chiamo Cinzia, mi è piaciuto tutto, ancora prima che iniziasse il corso. Lo consiglio perché è un arricchimento, è un arricchimento soprattutto per te che lo fai. E non c'è da aggiungere altro, ognuno ne ricava ciò che gli serve, no? Quindi sono successe magie, magie che non sto a sottolineare, ma comunque magie. Magie che mi hanno dimostrato che se tu vuoi fare le cose, le cose succedono. E mi porto a casa tanta gratitudine, tanto amore, tanta sorellanza e tanto nutrimento. Grazie. Grazie a Patrizia e a tutto lo staff dell'accoglienza e basta. Grazie.